Ok, si parte. Cosa non si fa per raccontare una storia? Dannazione, m'hanno preso. Mi è piaciuta questa? E via! Ehi, datemi una mano! Ti devo un favore. Adesso, sono a terra. Non me ne dimenticherò. Buon fine della floria. Puoi ringraziarmi dopo. Per te, finita! Per te, finita! Per te, finita! Dovrebbero segnare il Pulitzer per questo. Sto lanciando! D'annazio! Sono venito! Serve una mano? Lo apprezzo molto! Come faccio? Bella domanda! Sto lanciando! Non mi resta molto tempo! Non stai così male, mi vieni! Non lo dimentichai! Accidenti sono a terra! Non lo faccio? Voglio solo abbracciare! Accidenti, lotta! Aspetito! Questo è da parte mia! Stai arrivando! Oh, noi abbiamo finito! The pitnish è qui! Dai, in piedi! Bella sensazione! Prendi questo! Stai arrivando! Stai arrivando! Prendi questo! Stai arrivando! Sto lanciando! Oh, no! Stai arrivando! 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 Sì, sì! Oh, sono soffrezioni! Stai arrivando! Arriva! Oh, sei tu! Hai perso! Facci un'abitudine! Oh! Wow, che sovrruppazione! Uno atterrato! Complito!